Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 9 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche questa mattina alla quotidiana rassegna stampa come ogni giorno offerta da Tecnocampus Anche oggi ovviamente sono tante le informazioni sulle testate nazionali ma anche su quelle locali Ma in particolare vediamo che il focus si centra proprio su ciò che riguarda il governo Ossia le diatribe ancora in relazione a tanti punti che vengono considerati sempre più dibattuti Ma si parla anche di reddito di cittadinanza E vediamo che tra le regioni in cui è stato chiesto, sono state presentate il maggior numero di domande Proprio sul reddito di cittadinanza figura la Campania e anche la Sicilia Insomma una varietà di notizie che sicuramente oggi ci allieteranno la giornata E cominciamo subito a vedere i fatti in primo piano e lo facciamo col quotidiano Il fatto quotidiano appunto 800.000 richieste di reddito di cittadinanza all'Inps dopo Campania, Sicilia, Lazio e Puglia A quel punto c'è la Lombardia, la povertà si conferma, emergenza nazionale E ancora vediamo che in primo piano continua ad esserci la guerra e la Libia Nuovi barconi in arrivo, i 5 Stelle, i corridoi umanitari Haftar bombarda l'aeroporto di Tripoli, migliaia di spollati dalla città E infatti l'ufficiale isola, la capitale, le milizie dimisurata sono per la linea dura Mentre l'ONU arriva e invita a trattare, ma è azzoppata Gli USA mandano infatti solo una lettera sull'esecutivo italiano L'ombra del caos profughi Perché giustamente le persone che stanno fuggendo comunque dalla Libia Dove la situazione si presenta sempre più precaria Cercheranno rifugio nelle zone amiche Ancora vediamo le altre notizie in primo piano La vita del generale, l'ex federissimo di Gaddafi che fuggì in USA E intanto nella parte centrale vediamo quella che è la notizia Che apre appunto questa pagina Campagna elettorale finge di contare in Europa E di poter anche tagliare le tasse L'estrema destra peserà molto poco Sul fisco annunci senza fondi Stiamo parlando infatti di Unione Europea e flat taxi Blef di Salvini Ammirano l'incontro con gli alleati per le europee Partiti rumorosi ma piccoli Oggi arriva il DEF Pochi numeri e molte promesse E ancora vediamo Cucchi La svolta e il supertester racconta il pestaggio Governo parte civile L'arma lo dice Ma secondo questa testata a quanto pare non lo fa Ed ancora nella parte bassa della pagina Il compromesso di Conte Truffati dalle banche Ecco chi avrà i rimborsi E per il botte risposte Un insulto al giorno Sfida infinita Movimento 5 Stelle Il contrasto rappresenta sempre più Una difficoltà proprio in termini di discussioni E di prese di posizioni Ma ancora continuiamo a vedere le testate nazionali Ci spostiamo sul libero Pagati per non integrarsi Dice appunto questa mattina il quotidiano E a chi si riferisce agli islamici mantenuti Il libro francese Qatar Papel Rivela i paesi arabi riempiono di soldi Le organizzazioni musulmane estremiste attive in Europa E quelle italiane prendono più quattrini di tutte I libici danno le armi agli immigrati Per trasformarli in veri e propri mercenari Una accusa pesante Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina I presidenti della Lega, Zaia, Fedriga e Fontana Godono di grande popolarità E sono questi appunto Secondo il quotidiano libero I governatori più amati dai cittadini Ed ancora finisce in tribunale Chi si era ribellato per gli alloggi popolari ai nomadi Niente casa ai Rom Denunciati gli italiani Infatti col benestare della grillina della casta E la contrarietà di casa Pound Era stata data ai Rom Una casa a Casal Brusciado Gira tutta attorno alla casa A mo' di uno schiclo in lingua La protesta degli abitanti di Casal Brusciado Periferia est di Roma Contro l'assegnazione di un appartamento A una famiglia a Roma Premiata in base alle graduatorie Subito ovviamente è polemica E ancora vediamo nella parte sinistra della pagina Vediamo nell'editoriale di Vittorio Feltri Il saluto romano lo puniscono gli extracomunitari Vediamo che titola proprio così Liceali condannati Questa storia infinita e noiosa del saluto romano Contannabile quale reato mi sembra assurda E farebbe ridere se non fosse stata trasformata Dalla sinistra in un tormentone indigesto Se il saluto incriminato è romano Risalente cioè all'impero di Giulio Cesare Successori che ci importa se poi fu adottato dai fascisti Sempre romano rimane Pertanto perché dovrebbe essere vietato Non riesco a capire con quale logica Esso debba venire bandito Mentre la stretta di mano poco igienica Continua non solo ad essere in auge E addirittura raccomandatelo Ogni giorno vado al ristorante La prima cosa che faccio è recarmi in bagno Non di lavarmi gli arti superiori Mi siedo al tavolo E ogni volta che qualcuno entra nel salone Conoscendomi si avvicina e mi sporge il palmo Non posso negare il mio Però nincavolo Non mi va di raggiungere il lavabo 30 volte al dì E mi tengo per disperazione la mano contaminata dagli avventori Insomma una polemica proprio in relazione a questo saluto Il saluto romano Ovviamente si parla tanto Se ne chiacchiera, se ne discute Il simbolo è quello che rimane in vigore Ovviamente attribuirlo e paragonarlo a una stretta di mano Sembra alquanto bizzarro Ma soprattutto di cattivo gusto Anche perché sinceramente Se non vuoi dare la mano a qualcuno Probabilmente puoi anche evitarlo E allora eviterai di lavarle 30 volte al giorno E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Vediamo infatti nella colonna di destra Pure certi preti sono ostili a questa Europa E vediamo infatti in particolare Si parla dell'Arcivesco di Trieste Un'altra chiesa è possibile Persino tra i viscovi italiani Impegnati ogni giorno a predicare contro il populismo Ci sono voci fuori dal coro Sull'Unione Europea E sull'opportunità di vedere più Europa Ignorate dai media Alcuni non hanno paura di farsi sentire in pubblico Pur sapendo che in Vaticano e nella CEI È un brutto momento E ancora vediamo le altre notizie in primo piano Ci spostiamo nella parte bassa della pagina Il mal di pancia da spallo Una nuova malattia diffusa dalla marijuana Infatti è una nuova sindrome Fino a poco tempo fa Ancora sconosciuta e non diagnosticata Che insorge con improvvisi episodi Di grave nausea e vomito E questo è uno degli effetti Forse quello meno deleterio Di quelle che sono le sostanze stupefacenti Insomma prestiamo veramente tanta attenzione E ancora gli attacchi alle donne Sono immaginari Non sono mai state meglio E a parlare è proprio una donna Infatti le donne sarebbero sotto attacco Lo sostiene per prima la nota Collega Natalia Spesi Nella rubrica questioni di cuore Su venerdì di Repubblica Rivolta a un lettore Ma secondo questa prima notizia A quanto pare sono tutte storie inventate E ancora ci spostiamo Sulle altre pagine dei quotidiani nazionali Vediamo il tempo Via Rom anche da Casal Bruciato Il Campidoglio fa marcia indietro Dopo le prime proteste Come era accaduto già a Torre Maura Insorge Casalotti La vera nomade è diventata la raggi Che li porta di quartiere in quartiere E intanto nella parte centrale della pagina Vediamo un'immagine Della prima cittadina di Roma Accanto a Papa Francesco I truffati ricchi si arrangino No rimborsi Follia di governo Sia gli indennizi Per chi ha perso soldi con le banche Ma solo se il reddito non è troppo alto E intanto è degrado e immondizio ovunque La Cassia Bissa è una discarica a cielo aperto Ed infine nella parte bassa della pagina Parla Guido Crosetto E dice Costituzione calpestata E razzismo economico Ed ancora continuiamo a sfogliare Le prime pagine quotidiane nazionali Continuiamo infatti a parlarne delle notizie in primo piano E andiamo a vedere proprio il giornale Che cosa racconta in questa giornata Reddito di sudditanza Così lo chiama Va tutto a Napoli e Sicilia Fake news 5 Stelle Il governo approva i rimborsi Ma è sparita la flat tax Cittadinanza L'Italia è il paese dell'Unione Europea Che accoglie più di tutti Ed ancora Nella parte centrale della pagina Scusate Continuiamo a vedere quali sono gli altri fatti in primo piano Sono le vergognose passerelle al nord Si parla anche del salone del Divine Italy Dove abbiamo visto che l'Italia E soprattutto il meridione sono protagonisti A quanto pare sembra sempre più una passerella Secondo sempre questa testata Ed ancora l'ultima bugia Ora i grillini si credono la nuova DC E intanto Tagliani li affonda su tasse E P.P.E. soltanto bleff Ancora continuiamo a vedere la prima pagina La ragazza della bacchetta magica Che da Luca incanta tutto il mondo Stiamo parlando della direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi E ancora Dopo l'appello del giornale Salvini apre gli archivi Terrorismo Ecco le carte E anche su questa prima pagina del giornale Si parla della Libia Dove si muore Mentre l'Italia resta ancora una volta A guardare Dice il giornale Intanto nella parte bassa della pagina Facebook oscura Il nipote del Duce La sua colpa A chiamarsi Mussolini E infatti la storia del giovane candidato Di Fratelli d'Italia Viene tutta raccontata In questa prima pagina Secondo cui Mussolini Vittima di discriminazione su Facebook A denunciare la censura Nei suoi confronti Da parte dei social network E lo stesso Mussolini Candidato di Fratelli d'Italia Al sud La notizia della candidatura Del pronipote di Benito Era stata annunciata Dalla leader Giorgia Meloni E ancora Continuiamo a vedere le notizie In primo piano Ci spostiamo adesso Su un'altra testata Vediamo Repubblica Questa mattina Su che cosa Apre E a quanto pare Pone l'accento Proprio sulle eterne Discussioni Di questo nostro governo Smettetela di litigare Dice Parlatria Ministro dell'economia La maggioranza Sia responsabile Pensi solo alla crescita E intanto la flat tax Si farà Se tagliamo altre spese Bloccando gli appalti Non si ferma La corruzione E nell'editoriale Si parla dell'onore Di una nazione Mentre intanto Vediamo che Il giorno che Salvini Si finse moderato Appare proprio In prima pagina E in prima pagina Quella notte di orrore Così massacrarono Stefano Dopo circa dieci anni Dalla morte di Stefano Cucchi Adesso si continua a parlare Ancora i carabinieri Continuano a denunciarsi E la situazione si presenta Sempre più critica E soprattutto indecente E ancora vediamo Nella parte bassa Di questa pagina Guerra in Libia Tripoli Città chiusa E ancora una volta La guerra La fa da padrona Proprio sulle testate nazionali Dove viene raccontata Proprio questa vicenda Che sembrava Essere ormai distante Ma a quanto pare La guerra è sempre Dietro l'angolo E risulta essere Sempre più complicata Da tutti i fatti Che ogni giorno ci girano intorno Ancora vediamo il messaggero Spida sulla flat tax Tria frena Salvini però insiste E intanto Di Maio apre Ma allarme conti del tesoro Rischiamo la procedura Dell'Unione Europea Def crescita ferma E impegno a contenere Il debito Banche oggi L'ok al salvatruffati Ed ancora vediamo Le altre notizie In primo piano Il primo bilancio Del sussidio Reddito flop Gli italiani lo snobbano Richieste dal 50% Degli aventi diritto Ed ancora Nell'editoriale di Gervasoni Solitudine di un paese La strategia che manca Per avere peso In Libia E intanto Nella parte centrale Della pagina Vediamo Eccoci qua Ancora polemiche Per quanto riguarda Lo sport Il giudice frontale In autocolpa sua La punizione per Re Shalawi Giocherà a calcio Con i bambini E intanto Il caso Roma Continua a far discutere Scontro nel governo Movimento 5 Stelle Vogliono far cadere raggi Di Maio Campi rom Cercati e creati Dalla Lega Il carroccio No al debito Capitale Ed infine l'inchiesta Mitinfranti Svezia La casta dei Maragia Qui non passa Lo straniero E nella parte bassa Della pagina Un trafiletto Annuncia la difesa Parte civile Carabinieri in aula Cucchi picchiato Dai miei colleghi Questa è la denuncia Shock Che ancora una volta Viene fatta Proprio dai militari E questa è la situazione Che oggi si presenta In tutte le prime pagine Proprio perché È un'evidenza Che non poteva essere più taciuta Per quanto riguarda La prima parte La rassegna stampa Vi lascio una piccola pausa Ossia vi lascio due minuti Di pubblicità Giusto due Ma non temete Ritorniamo subito dopo Quindi non andate via La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegna stampa La rassegna stampa All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione al centro Martedì 9 aprile Bentornati in studio Continuiamo questa rassegna stampa Con le prime pagine dei quotidiani nazionali E continuiamo a sfogliarli E adesso passiamo al Corriere della Sera Flat Tax La frenata di Tria Questo è l'articolo di apertura Che racconta di banche L'accordo con i risparmiatori In borsi automatici Ai meno abbienti E intanto il tesoro Solo un riferimento nel DEF Reddito Una domanda su tre Viene da Campania e Sicilia Il distingo infatti Del ministro dell'economia Giovanni Tria Sulla Flat Tax Divergenze con la Lega Sulle aliquote E il tesoro Solo un riferimento del DEF Questo è l'allarme che viene lanciato Appunto dal tesoro Mentre le banche Prevendono rimborsi automatici Per i redditi Fino a 35 mila euro E intanto ancora vediamo Che nell'editoriale Si parla di noi In quanto Italia E la Libia La strana guerra di Haftar Nell'editoriale di Venturini Infatti Cosa vuole il generale Cirenaico Khalifa Haftar E chi lo aiuta Ora che i suoi miliziani Mascherati da esercito Assediano Tripoli Soltanto rispondendo A quelle domande A queste domande Potremo inquadrare Correttamente L'ennesima strana guerra libica E ricavare le indicazioni Politico-militari Che potrebbero servirci Ad alleviare E sarebbe Anche ora Le pesanti minacce Che il caos in Libia Fa gravare Sugli interessi nazionali italiani Per cominciare Haftar Vuole davvero Espugnare Tripoli E improbabili A meno che Siano le numerose E non coordinate milizie Della capitale A donargliele In cambio Di sostanziosi benefici Ma Tripoli E difesa anche Dagli uomini di misurata Che sanno battersi E' un bagno Appunto di sangue Non aiuterebbe La causa del generale Di Benghazi Piuttosto bisogna capire In cosa consiste Questa causa Insomma Ho un esame lucido Di questa vicenda Che rappresenta appunto La guerra in Libia E soprattutto Che tiene presente Quelli che possono essere Le ragioni Della medesima guerra E ancora vediamo Gli altri fatti In primo piano Ci spostiamo in Siria Il religioso rapito Nel 2013 Parlano ora I testimoni Ecco qua lo vediamo Nella foto Quelle ultime ore Di un padre Dallodio Subito ucciso Aveva paura Paolo Dallodio Nella mattina Di quel 29 luglio 2013 L'ultimo giorno In cui è stato visto I testimoni raccontano Cosa successe Nelle ore precedenti Al rapimento Del gesuita In Siria L'ultimo incontro Ci disse Se non torno Date l'allarme Forse fu ucciso Subito Ed ancora Continuiamo a vedere Le notizie In primo piano Ancora una volta Si parla Del processo Cucchi Il racconto in aula Fu preso a calci in faccia Il ministero della difesa Si costituirà A parte civile Tu devi dire Che non è successo niente Che Cucchi Stava bene Se vuoi continuare A fare carabiniere Devi seguire La linea dell'arma Vice brigadiere Francesco Tedesco 37 anni Squarcia in tribunale Anni di silenzi E omertà Racconta degli schiaffi Di calci in faccia Stefano Cucchi Scrissi E un'annotazione Di servizio In cui ricostruì Ciò che avevo visto Ma dopo qualche giorno Mi accorsi Che non c'era più E intanto Il ministero della difesa Ha annunciato Che si costituirà A parte civile Ed ancora Ci spostiamo Negli Stati Uniti Dove vediamo Che Trump E la sfida sul muro Prosegue Cacciata un'altra ministra Infatti Via Nilsen E il capo Dei servizi segreti E ancora Nella parte bassa Della pagina Una notizia O meglio Comunque Un racconto Che viene fatto Da Gramellini Questa mattina Che titola appunto così Tonno e cracker Insomma Tutto da discutere Su questa vicenda Che riguarda La mensa scolastica Infatti Una famiglia di immigrati Non paga la mensa scolastica Della figlia Non risponde Dei solleciti Non chiede esenzioni Semplicemente Se ne infischia Il comune Veronese Di Minerbe Fa sedere La piccola Tavola Con i compagni Ma anziché Il pasto completo Le serve Un pacchetto Di cracker E una scatoletta Di tonno La bambina scopia E lacrime L'opposizione Si indigna Il sindaco Leghista Si difende Io lo devo fare Per correttezza Verso le famiglie Che pagano la retta Una motivazione Inoppugnabile Ma proviamo A rovesciarla La decisione Provoca un danno Anche alle famiglie In regola Con i pagamenti Se i loro figli Vedono piangere La compagna Per una faccenda Di pietanze Che idea Si faranno Della scuola E del mondo I bambini Non conoscono ancora Le disuguaglianze Impareranno A farci conti Più in là Ma durante L'infanzia Pensano che Le gerarchie sociali Non esistano O siano Ininfluenti Sbattergliele In faccia Significa Scoinvolgerli Tutti Indistentemente La bambina Costretta A una dieta Di cracker Si porterà Dietro L'umiliazione Per sempre Ma anche Quelli Che ricevono Gli spaghetti A sugo Proveranno Imbarazzo A meno che Non abbiano La sensibilità Di un sottosegretario E faranno Conoscenza Con il senso Di colpa Una iattura Che trascineranno Nell'età Adulta Chi urla Sta facendo Agli italiani L'unica Ad averlo capito Sembra essere Stata la maestra Che ha rinunciato Al suo pasto Per darlo Alla bambina E infatti Questo è Stato annunciato Proprio da queste pagine Ma ancora Un'altra notizia Che viene proprio Messa in evidenza Da questo racconto Ieri sera Il cacciatore Candreva Annunciato Che pagherà Lui la retta Per la bambina Insomma Laddove nessuno Ritiene Importanti Determinate situazioni Oppure Tiene ferma La barra appunto Della forza Quella che determina Chi deve vincere E chi deve perdere Insomma Nello scontro Tra i genitori E comunque comune Dal lato Chi non si interessa E chi se ne interessa Troppo Sembra che a vincere La solidarietà La solidarietà Non per la famiglia Che comunque In dispetto Di qualsiasi norma Non appare Ma proprio I bambini Che vengono A essere considerati Gli elementi Base Di qualsiasi Società Civile E si spera Che rimangano civili Il più a lungo possibile E ancora Vediamo gli altri fatti In primo piano Ci spostiamo sul mattino E vediamo Negli annunci Della parte alta Della pagina Cosiddette notizie Civetta L'azione regale Di Serghetti Osei FCA Adora pagare 110 milioni Agli azionisti Mentre La serie di De Giovanni Ricciardi Sono io Guanciale Nella fiction Sul commissario E intanto Storico e scrittore Manfredi Viva l'amor di patria Ma senza nazionalismi E intanto Nella parte alta Della pagina Piani per i su Dal palo Flat taxi I dubbi di tria Bonus assunzioni Quota del 34% E incentivi All'impresa Bloccati dalla burocrazia Riforma fiscale Di Maio Apre al pressing Di Salvini Il tesoro Intanto Lancia L'allarme Conti E ancora Vediamo Quali sono i dati Secondo Gli annunci Di questa mattina Sono sotto le attese Il reddito flop La metà Non ha fatto Richiesta E un terzo Arriva appunto Dalla campagna Commissario sanità Movimento 5 stelle Via De Luca Frenata della rega Il ministro Grillo Ha indicato Il toscano Desideri Il governatore Conti Apposto Dice Già pronto Il ricorso E infatti Ancora uno scontro Movimento 5 stelle Lega Stavolta in campagna Sul commissario Per la sanità La Lega Frena i 5 stelle E sulla nomina Che era in programma Oggi In consiglio dei ministri Il nome Lizza Era quello Dell'ex manager Di Arezzo Desideri Cianambino Il movimento 5 stelle Attacca De Luca La Lega Non invita Lo invita Ad una maggiore Concretezza Il governatore Conti A posto Già pronto Il ricorso Ed intanto Vediamo ancora Che si parla Di europee PD Roberti Capolista Zingaretti Al sud Punta Sull'ex PM Antimafia E ancora Vediamo Sullo sport Il tecnico La squadra Ora fate Quello che dico Arsenal Assuriata Ancelotti Napoli In ritiro Fino a domenica E infatti Si arrabbia Sul serio Carlo Ancelotti Contro il suo Napoli Ha rimproverato I suoi Alzando la voce Le disattenzioni Continue Rispetto alle sue Precise indicazioni In gara Dopo la partita Con l'Arsenal Tutti In ritiro Fino a domenica E intanto Vediamo i problemi Nati Dopo la perdita Di Amsic E Albioli Ed ancora Vediamo le altre Notizie in primo piano La nuova guerra In Libia Piano per evocare Gli italiani Da Tripoli E intanto Serve una strategia Per avere più peso E nella parte più bassa Il voto referendum Su Bibi Re di Israele Sempre per le elezioni E la domanda è Monarchia o Repubblica Questa è la scelta Che dovranno fare Gli elettori israeliani Oggi alle urne In quelle che dovrebbero essere Le elezioni Fondamentali Per il Parlamento Israeliano Ma in realtà Sono un vero e proprio Referendum Costituzionale Intanto vediamo Nella parte sinistra Della pagina La spalla Che viene lasciata Questa mattina Vittorio del Tufo Si parla degli incurabili Un tesoro universale Da salvare E infatti Gentile ministro Dei beni culturali Alberto Bonisoli Se c'è un luogo Che più di altri Parla ai napoletani Della loro storia Della loro cultura E della loro memoria Quel luogo È complesso Il complesso monumentale Degli incurabili In questi giorni Come saprai I giornali Stanno raccontando Una storia di cronaca Solo apparentemente Come tante Un pavimento crollato Una slabina di pietre E uno stilicidio Di crepe E uno sgombero Non più rinviabile Di pazienti Costretti a lasciare L'ospedale Di Caponapoli Dopo l'allarme Dei vigili del fuoco Come era prevedibile Il crollo avvenuto Nella chiesa E Santa Maria del Popolo Nel cuore della cittadella Degli incurabili Ha costretto le autorità A cominciare Dalla ASL Napoli 1 Proprietaria del complesso A correre ai ripari Anche la farmacia storica Probabilmente Dovrà traslocare In vertice Al quale parteciperà Anche il sovrintendente Garella Proprio oggi Ne deciderà Infatti il destino Ed ancora Continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani nazionali Andiamo ad esaminare Il manifesto E vediamo che Nella parte alta Si parla anche qui di Libia E guerra tra Raftar e Serrai A Tripoli Bombardato anche l'aeroporto Fallita iniziativa ONU Migliaia di sfollati E intanto L'allarme dell'ONU Irante in condizioni Miserabili Mentre nella parte centrale Della pagina E' tutto dedicato Al caso Cucchi Arma letale Ero bloccato Da un muro insormontabile Al processo BIS Sulla morte di Stefano Cucchi E la testimonianza Shock del carabiniere tedesco Porta la verità In aula Sui depistaggi Dei vertici Dell'ARBA Un silenzio Lungo dieci anni E Conte annuncia Il governo Sarà parte civile Ancora continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani Ci spostiamo adesso Sulla stampa Tria vince Sulle banche Ma Salvini e Di Maio Gli impongono la flat tax Il pasticcio Della doppia aliquota Mentre Bussetti dice Tuteliamo i figli I figli dei migranti Ma prima gli italiani E nella parte centrale Della pagina Israele al voto Bene Gans Vuole chiudere l'era Netanyahu Ed ancora Nella parte destra Della pagina Nuova rivolta a Roma Casal bruciato Meglio I neri Degli zingari Insomma Ancora forme Di razzismo Di repulsione sociale E soprattutto Di abbandono Di chi Comunque Necessita Di un aiuto Ancora Continuiamo a vedere Le prime pagine Dei quotidiani Questa volta però Ci trasferiamo Su un argomento Più leggero Qual è quello Dello sport Proprio con Due testate nazionali Quali sono Il Corriere dello sport Che apre Nella parte centrale Con Max In The City Champions Sfida a distanza Tra Allegri E Guardiola Infatti Lì vediamo Nella parte centrale La pagina Con Tottenham Manchester Alle 21 Comincia Pep Unico degli otto Tecnici in gioco Ad aver vinto La Coppa Maripi Scommette Juve favorita E intanto Nella parte alta Della pagina Si parla ancora Di arbitri Operazione Trasparenza Rizzoli finalmente Ammette davanti Ai tecnici e giocatori Abbiamo sbagliato Noi E presto I club Potranno assistere Al lavoro Del VAR E ancora Ci spostiamo Sulla seconda Testata sportiva Qual è tutto sport E nella parte alta Gioco Ronaldo Convince Allegri Domani L'ultimo test Ad Amsterdam Ma la Juve Con l'Ajax Potrà contare Sul suo fuoriclasse Anzi A Chiellini Per una botta Presa contro il Cagliari Mercato Le strategie Bianco-nere Per superare Il Barcellona Nella corsa Ad elite E intanto Nella parte centrale Della pagina Lavorata La volata Per l'Europa Obiettivi immediati E piani futuri Inter Radul Per i Milan Baccaioco Sin Champions Ed ancora Atalanta Super Zapata Ci vuole un vice Ed infine Toro Graziani Serve Più coraggio Ed ancora Nella parte bassa Della pagina Si parla di Volley Ritorno Delle semifinali La Champions Può diventare Un vero e proprio Affare italiano E adesso Ci fermiamo qui Per quanto riguarda La prima parte Della rassegna stampa Vi lascio a qualche Momento di pubblicità Ma ritorniamo subito dopo E parleremo di tutti i fatti Che riguardano La regione campagna La regione campagna All'incrocio tra Caserta e il futuro È nato Tecnocampus Un centro direzionale moderno Frutto di un ambizioso progetto Di riqualificazione industriale Che ha messo la qualità del lavoro Al primo posto Tecnocampus Il nuovo centro direzionale di Caserta È collegato direttamente All'A30 Caserta Salerno E dista pochi minuti Dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln Zona industriale Ex San Goben Caserta Tecnocampus La soluzione Al centro Ben tornati in studio Siamo pronti adesso Per affrontare tutte le tematiche Che riguardano la regione campagna E cominciamo direttamente A parlare dei fatti Che in primo piano Ci fanno parlare Proprio di questa nostra regione A partire da Napoli E dalle europee Il fatti è politica In primo piano Ecco chi è Franco Roberti Il capolista del PD Al sud L'ex magistrato E assessore regionale Alla sicurezza Nella giunta di Luca Che ha detto Ha dichiarato appunto Ha accettato Per spirito di servizio E grande la soddisfazione Di poter annunciare Che Franco Roberti Ha accettato Di guidare la nostra lista Alle elezioni europee Nella circoscrizione Sud L'annuncio è arrivato Da Nicola Zingaretti Sottosegretario Scusate Nazionale del PD Per me è un grande onore Che Roberti Ex procuratore nazionale Antimafia Abbia accettato Di essere con noi In questo importante passaggio Appunto Include Zingaretti Ancora continuiamo a vedere I fatti in primo piano Vediamo le altre notizie Che riguardano Le importanti vicende Che sono accadute In questi giorni A Napoli In particolare A Scampia È arrivato Il capitano ultimo Vogliamo il mondo Della fratellanza E non di confini E armi Il colonnello Sergio De Capio Più noto come capitano ultimo Per la prima volta Incontra infatti I studenti Di una scuola napoletana Raffica di domande Ai bambini Dai bambini attentissimi Dell'istituto Virgilio Quarto di Scampia Diretto dalla preside Lucia Vollaro Siamo tutti ultimi Dice il capitano Tu sei nato qui Ma potevi nascere In mezzo alla guerra In mezzo a un deserto Ho già morto È un dono la vita Facciamo parte di una famiglia Che si chiama umanità E non la decidono Quelli degli stati Non farlo decidere a loro Cos'è l'umanità Non c'è niente Di più autorevole di noi Che adesso ci parliamo Guardandoci negli occhi E ci diciamo Senza inganno Quello che pensiamo Vediamo un mondo Dei popoli Della fratellanza E non dei soldi Dei confini E delle armi E speriamo che questi ragazzini Crescano proprio con questa volontà Visto che molto spesso Gli adulti vivono E crescono proprio Nella concezione Che i soldi siano tutto Che il voltarsi di spalle Sia necessario Se non indispensabile E soprattutto Che non ci si parli mai In faccia Perché altrimenti Si potrebbe rischiare Di essere sottovalutati O comunque considerati Degli stupidi Ancora continuiamo a vedere Gli altri fatti In primo piano Il ministro dell'ambiente Sergio Costa Celebra il progetto Mare vivo Infatti a Capri Arrivano i dieci anni Di delfini e guardiani E vediamo infatti Nella parte alta Di questo articolo Dieci anni di delfini e guardiani Con mare vivo Dieci anni appunto Di progetti ambientali Con protagonisti 1.500 ragazzi Delle isole minori d'Italia Tutto iniziato a Capri Nel 2009 E da qui I festeggiamenti Avvenuti lunedì 8 sull'isola azzurna Nella certosa di San Giacomo Ospite speciale Il ministro dell'ambiente Sergio Costa Il quale ha rilanciato Sull'istituzione Di un'area marina protetta A Capri Entro l'anno Mare vivo I sindaci Dei due comuni isolani Ha spiegato Costa Possono aiutare il ministero A far passare la norma Sull'area marina protetta Vorremmo poterla inserire Nella prossima legge Di stabilità Assicurando la copertura Finanziaria necessaria I nostri ragazzi Ha poi aggiunto il ministro Su un posto su Facebook Stanno crescendo Con una sensibilità Ambientale Che davvero Mi emoziona Insomma Sembra che da un lato I ragazzini Siano sempre più In bilico Tra realtà E fantasia A causa appunto Dei social network Ma di tutto quello Che gli ruota intorno Ma dall'altro canto Sembra che proprio Questi giovani Leve Dell'umanità Rappresentino Una possibilità Di scacco A quella Che è la vita Ma soprattutto A una costituzione E a una salvezza Di un mondo Che troppo spesso Gli adulti Hanno depredato E fatto proprio Quasi come se In realtà Non ci fosse Una ricchezza Che invece È fondamentale Proprio per vivere meglio Ancora vediamo Proprio parlando Di depredare Questo mondo Fiumi di droga Al centro di Napoli Scatta il Blitz 22 arresti Un plauso Ai carabinieri Napoletani Infatti Una max operazione Dei carabinieri Hanno arrestato 22 persone Per traffico Di sostanze Stupefacenti Il Blitz Dei militari Ha colpito Un gruppo Di broker Internazionali Che riforniva Clan Camorristici Di Napoli E provincia E un sodalizio Criminale Che gestiva Lo spaccio Nello storico Quartiere Partenopeo Mercato L'operazione Dei carabinieri Sta dando esecuzione A due misure cautelari Emesse dal Tribunale Di Napoli Su richiesta La reazione Distrettuale Antimafia A carico Proprio Di 22 soggetti Per reati Inerenti Il traffico Di sostanze Stupefacenti Ed ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Ieri c'è stato Un brutto incidente Sull'autostrada Del sole Una carambola Mortale In autostrada Tony e Maria Traditi dalla velocità E infatti Qua vediamo Un'immagine Di una delle vittime E la macchina distrutta Alba Rosso Sangue Sull'autostrada Milano-Napoli In una terrificante carambola Che ha coinvolto Sei veicoli Due persone hanno perso La vita Antonio Esposito 29 anni Diafragora Commerciante Ambulante E una ragazza Maria Notaro 23 anni Di Piazzolla Di Nola Studentessa universitaria Figlia di un medico Della zona nolana Deceduti Entrambi sul colpo Cinque feriti Estratti dopo ore di lavoro Dei vigili del fuoco Dalle lamiere contorte Delle auto E un furgone Coinvolti nell'incidente Che ora sono ricoverati All'ospedale Cardarelli Di Napoli Ancora l'ennesimo incidente Probabilmente per la velocità La disattenzione Insomma Nel momento in cui Ci mettiamo in auto A prescindere Da tutti i controlli Che ci possono essere All'interno Delle nostre autovetture Cerchiamo di prestare Sempre massima attenzione E soprattutto Di non sgarrare Permettetemi il termine Ossia rispettiamo La velocità Le norme di comportamento Non tagliamo la strada A nessuno E prestiamo sempre La massima attenzione E ancora cambiamo argomento Turisti Si parla della prossima Pasqua Rischio flop Prenotazioni Pensate un po' In calo del 40% Infatti Il paragone È stato fatto Con lo stesso periodo Lo scorso anno Ora la speranza Sta nel last minute Nel ponte lunghissimo Che mette insieme Il Pasqua Il giorno della liberazione Se lo scorso anno Come i tre presenti Salerno è letteralmente Stata presa a salto Dai turisti Per le festività pasquali Quest'anno La tendenza invece Parla di un generale Calo dell'interesse Verso la città Interesse che potrebbe crescere Nelle prossime settimane Ma che almeno per il momento Non fa sorridere Gli operatori Del settore alberghiero Ed anche extra alberghiero Ed ancora continuiamo A vedere le notizie In primo piano Ci spostiamo Sulla cronaca Tutta nella provincia Distrettuale antimafia Ed eseguite dalla polizia Di stato E vediamo infatti Che il provvedimento Restrittivo Compendia L'esito delle indagini Svolte dalla squadra Mobile di Caserta Coordinata dalla direzione Distrettuale antimafia Di Napoli Nei confronti Al suddilizio criminale Di stampo camorristico Denominato Clan Piccolo Retizia E dell'analogo Suddilizio denominato Clan Perreca Adesso Federato Entrambi operativi Sui territori di Caserta Marcianese e Recale Aree contigue Dagli anni 90 Fino ad oggi Inaperte Armata Contraposizione Con quello che è Il clan Belforte E ancora si continua Sulla cronaca Omicidio Tondi La psicoterapeuta Racconta i sogni di Emilio E le paure per il figlio letto La dottoressa infatti È stata chiamata A testimoniare dalla difesa E da pie spiegato Anche i motivi del parere Contro l'affinamento Del bambino Ai genitori della mamma E infatti È stata proprio Questa psicoterapeuta A raccontare Nell'omicidio Tondi Perché bisogna prestare Particolare attenzione Infatti ha raccontato Del percorso Che Emilio E la mamma Hanno fatto con lei Per elaborare il lutto Della tragica morte di Katia Soprattutto per avere suggerimenti Su come relazionarsi Col bambino piccolo Preoccupati per la sua crescita La dottoressa ha sottolineato Come Emilio Lavoretano Vivesse in uno stato Ansioso Depressivo Non accettando La morte della moglie Ed ha sottolineato Come lui volesse Sempre dormire Perché sognava la moglie E la sentiva vicino Anche fisicamente Secondo i suoi racconti Insomma Emilio Lavoretano In sintesi Era molto preoccupato Per la crescita del bambino E sembrava non interessarsi Del fatto di essere indagato Perché la sua attenzione Era costantemente Focalizzata Proprio sul bambino Inoltre confidato La testimone Il dispiacere Per come si era evoluto Il suo rapporto Con Assunta Giordano La mamma di Katia Che era stato sempre Molto bello Fin quando non è tornata Costante La presenza Di Carlo Tondi E ancora Continuiamo a vedere Le notizie In primo piano Ci spostiamo Sul Corriere di San Nicola Andiamo a vedere Un evento Che coinvolgerà L'intera comunità Domenica delle Palme Con la Stabat Mother Infatti torna la grande musica A Santa Maria degli Angeli La parrocchia Di una delle due parrocchie Di San Nicola La Strada Grazie ad un'iniziativa Promossa dal CIF E infatti Alle 19 Il CIF Ossia Il Centro Italiano Femminile San Nicola La Strada In collaborazione Con l'associazione musicale Sing Art Presenterà la famosa Composizione Sacra Stabat Mother Di Giovanni Battista Pergolesi Ad animare la serata Ci sarà anche La scuola di danza Astmovendi Insomma Nella Domenica delle Palme Musica E tanta attenzione Per ciò Che riguarda Appunto Le celebrazioni Liturgiche Ancora ci spostiamo Su Caserta Focus I big del PD In visita al carcere Piero De Luca Va riaperto Il reparto penitenziario Dell'ospedale SOS Personale E andiamo a vedere Proprio di che cosa si tratta Eccoci qua Vediamo Che il deputato Dem Piero De Luca Ha visitato Ieri con Stefano Graziano Pina Picerno Ed il garante Campano dei detenuti Samuele Ciambriello La casa circondariale Uccella di Santa Maria Capoveta Nel corso della visita Al padiglione femminile Ha spiegato De Luca In compagnia della direttrice Elisabetta Palmieri Abbiamo avuto modo Di parlare Delle molteplici Attività In cui sono impegnate Le 60 detenute Attualmente ospiti Della casa circondariale Casertana Ci sono delle criticità Oggettive Da risolvere Ha proseguito Il deputato Dem In prima istanza Il sottodimensionamento Del personale penitenziario Circa 400 unità A fronte Di 1.020 detenuti Ma è necessario Intervenire anche Su altri temi Ossia potenziale La specialistica Ambulatoriale In carcere Riducendo al minimo Gli spostamenti Dei detenuti E sollecitare La riapertura Del reparto penitenziario L'ospedale Di Caserta Chiuso da tempo Ed infine La regione Campania Per questa struttura Carceraria Ha sottoscritto Un protocollo D'intesa Con il comune Finanziando Con 2 milioni di euro L'allacciamento Alla condotta idrica Per la risoluzione Della problematica Relativa all'approvvigionamento Di acqua potabile E ancora Continuiamo a vedere Le altre notizie In primo piano Ci spostiamo Su Vivi Campania E andiamo a vedere Il CSV Assovoce L'inaugurazione Dello spazio Di co-working Presso lo sportello Agro Aversano Insomma Uno spazio Dove i volontari Delle ODB E degli altri ETS Potranno incontrarsi E lavorare A progetti qualificati Il CSV inaugurerà Il prossimo 11 aprile Presso lo sportello CSV Dell'Agro Aversano L'area co-working Dotata appunto Di scrivania In condivisione E ancora Di connessione Rete fibra ottica Wi-Fi Stampanti multifunzione Accesso alla sala Reunione e formazione Dotata di impianto Di videoproiezione Impianto audio PC portatile Connessione Wi-Fi Insomma Potranno Accedere allo spazio Co-working Tutti i volontari Di ODB Ed altri soggetti Ovviamente Del terzo settore Insomma Una rivoluzione Proprio in termini pratici Per quanto riguarda Le associazioni E tutti Gli aderenti Al terzo settore Che potranno Contare Su una struttura Da cui poter Effettivamente Operare E anche per questa giornata Per quanto riguarda La rassegna stampa Con i fatti In primo piano Termina qui A voi tutti Un grazie Per averci scelto E per essere stati con noi E soprattutto L'augurio di una splendida giornata Prima di lasciarvi però Ringrazio come sempre Tecno Campus Che ogni giorno Ci offre la possibilità Di stare insieme E annunciarvi i fatti Principali Dell'informazione Tutta italiana Ma in particolare Campana Che alla fine Ci rende tutti Capaci di scegliere Buona giornata a tutti Ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti www.tecnocampus.it